Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Nelle prossime puntate di Un posto al sole Nunzio tornerà al centro della trama e per lui ci sarà la resa dei conti Cosa accadrà? Nelle prossime puntate di Un posto al sole Nunzio sarà vicino al tracollo Scopriamo insieme che cosa accadrà nella Soap Napoletana, che va in onda tutti i giorni dall'unedì al venerdì dalle ore 20 45 su Rai 3.La Soap Napoletana sta osservando il periodo di riposo di due settimane e tornerà in onda a partire dal lunedì 29 agosto Le vicende e le trame che sono rimaste in sospeso giungeranno all'epilogo, per lasciare spazio a nuove storylines molto avvincenti I fan stanno aspettando di vedere come andrà la relazione tra Marina e Roberto e sappiamo con certezza che Fabrizio Rosato sarà ancora nei paraggi L'attore Giorgio Borghetti si trova ancora sul set napoletano e questo conferma che Rosato non uscirà affatto di scena C'è tanta preoccupazione anche per Nunzio Cammarota. Dopo la partenza di Chiara Petrone il ragazzo ha perso la testa e nelle prossime puntate potrebbe commettere un grave errore Vediamo insieme cosa accadrà ai protagonisti di Palazzo Palladini Chiara e Nunzio sono stati separati dal gesto della Petrone che ha deciso di partire da sola Nunzio non si darà pace e prenderà una decisione folle Il ragazzo è abbandonato a se stesso perché rifiuterà l'aiuto e l'appoggio dei suoi genitori Nonostante continuerà a lavorare al Caffè Vulcano, sarà sempre più convinto di ritrovare la sua amata, costi quel che costi Le partite clandestine a poker lo dovrebbero aiutare a pagare l'investigatore privato che trovi il nascondiglio di Chiara La Petrone è una latitante perciò Nunzio giocherà col fuoco Gli spoiler svelano che il figlio di Franco potrebbe commettere una pazzia e partire all'avventura alla ricerca di Chiara in giro per il mondo Qualcuno riuscirà a fermarlo? Nunzio sarà fuori di testa e la situazione peggiorerà quando Franco inizierà a sospettare le malefatte del figlio Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video